Al principio Dio creò il cielo e la terra. Il concetto stesso è dei principi di tutte le cose alla base dell'astronomia e dell'astrofisica moderne. Affermare che prima dell'ordine esistevano il vuoto e il caos si conforma alle più recenti teorie secondo cui è il caos e non la stabilità permanente a governare l'universo. E poi c'è l'affermazione sul lampo di luce che diede inizio al processo della creazione. Si tratta forse di un riferimento al Big Bang, la teoria secondo cui l'universo sarebbe stato creato da un'esplosione primordiale, uno scoppio di energia in forma di luce, che ha scagliato in tutte le direzioni la materia che è andata a formare stelle, pianeti e rocce, e esseri umani, creando nuoviglie che vediamo nei cieli e sulla terra. Alcuni scienziati affascinati dalle implicazioni della nostra maggiore fonte di ispirazione l'hanno ritenuto possibile. Ma allora come faceva l'uomo antico a conoscere la teoria del Big Bang così tanto tempo fa? O forse la narrazione della Bibbia tratta dei fatti più vicini, cioè di come si sono formati il nostro piccolo pianeta Terra e la zona celeste rifinita a firmamento, o il bracciale cesellato? Anzitutto, come poteva l'uomo dell'antichità avere formulato una cosmogonia? Quanto sapeva veramente? E in che modo l'aveva appreso? È del tutto naturale che cominciamo a cercare le risposte là, dove gli eventi cominciarono a svilupparsi, cioè nei cieli, dove da tempo immemorabile l'uomo senti di dover ricercare le proprie origini e i valori più alti, Dio se volete. Per quanto siano emozionanti le scoperte fatte grazie all'uso del microscopio, è proprio quello che ci permettono di vedere i telescopi, a riempirci di consapevolezza e di grandiosità della natura dell'universo. Tra tutte le conquiste moderne, le più impressionanti sono senza dubbi i successi nell'esplorazione dei cieli attorno al nostro pianeta e che incredibili progressi sono stati fatti. In pochi decenni noi terrestri abbiamo spiccato il volo della superficie del nostro pianeta e abbiamo perlustrato i cieli della Terra per centinaia di chilometri di altezza e abbiamo inviato una lunga serie di sonde spaziali automatizzate per esplorare i nostri vicini di spazio, scoprendo mondi attivi e vibranti, meravigliosi per colore, aspetto, caratteristiche, satellite e anelli. Forse per la prima volta possiamo afferrare il significato e la ragione delle parole dei salmi. I cieli cantano la gloria del Signore e la volta del firmamento rivela l'opera della sua mano. Il punto culminante di una fantastica era di esplorazioni planetarie è stato raggiunto nell'agosto di 1989 quando l'astronave spaziale senza equipaggio chiamata Voyager 2 passò oltre il lontano Nettuno, rimandando alla Terra fotografie e altri dati. La sonda, che pesava soltanto una tonnellata ma era piena zeppa di telecamera, sensori, misuratori, antenne, trasmittenti e minuscoli computer, il tutto funzionante energia nucleare, trasmise impulsi sommessi che persino alla velocità della luce impiegano più di quattro ore per raggiungere la Terra, dove vennero catturati da una rete di radioscopi, la Deep Space Network della NASA. Poi i deboli segnali furono tradotti dai marchigegni elettronici in fotografie, mappe e altre categorie di dati nei sofisticati laboratori della JPL a Pasadena, in California, che seguiva l'operazione per la NASA. Lanciati nell'agosto del 1977, dodici anni prima di raggiungere la destinazione finale, cioè la visita di Nettuno, il Voyager 2 e il suo compagno Voyager 1 in origine erano stati progettati per raggiungere ed esplorare soltanto Giove e Saturno e accrescere la quantità di dati che erano stati già ottenuti in precedenza su questi due giganti cassosi dal Pioneer 10 e il Pioneer 11, anch'essi astronavi senza equipaggio. Ma con notevole abilità e ingegnosità, gli scienziati e tecnici della JPL approfittarono di un raro allineamento dei pianeti esterni e usando la loro forza gravitazionale come una specie di fionda, riuscirono a spedire il Voyager 2 prima da Saturno a Urano e poi da Urano a Nettuno. Fu così che per diversi giorni, alla fine dell'agosto del 1989, i titoli delle prime pagine si occuparono di un altro mondo, riuscendo a far dimenticare le solite notizie di conflitti armati, sconvolgimenti politici, risultati sportivi e movimenti di mercato che occupano la vita quotidiana dell'uomo. Per qualche giorno il mondo, che chiamiamo Terra, si prese il tempo di osservare un altro mondo. Noi terrestri siamo stati incollati davanti alla televisione a osservare, stupefatti, le fotografie ravvicinati di un altro pianeta, quello che chiamiamo Nettuno. Mentre le scintillanti immagini del globo color acqua marina apparivano sui nostri schermi, i commentatori sottolineavano ripetutamente che per la prima volta l'uomo sulla Terra aveva la possibilità di osservare dal vero il pianeta che, persino ai migliori telescopi terrestri, appare come un puntino fiocamente illuminato nelle tenebre dello spazio, a quasi 5 miliardi di chilometri da noi. Ai telespettatori veniva ricordato che Nettuno era stato scoperto soltanto nel 1846, dopo che alcune perturbazioni dall'orbita del pianeta Urano, relativamente più vicino, avevano indicato l'esistenza di un altro corpo celeste. Dicevano che nessuno, prima dell'ora, né Sir Isaac Newton, né Giovanni Epplero, che avevano scoperto e formulato le leggi del moto dei corpi celesti nel XVIII e XVIII secolo, né Copernico, che nel XVI secolo aveva determinato che è il Sole, non la Terra, il centro del nostro sistema planetario, né Galileo, che con un centinaio di anni più tardi usò un telescopio per annunciare che Giove aveva quattro lune. Insomma, nessun grande astronomo fino alla metà del XIX secolo e certamente nessuno prima di allora avevano saputo dell'esistenza di Nettuno. E così, non soltanto il telespettatore medio, ma anche gli astronomi stessi stavano per vedere ciò che non era mai stato possibile vedere fino ad allora. Sarebbe stata la prima occasione per contemplare i veri colori e il vero aspetto di Nettuno. Due mesi prima dell'appuntamento di agosto, però, avevo scritto un articolo per diverse riviste sanuditensi, europee e sudamericane, contraddicendo alcune nozioni da tempo radicate nell'opinione di tutti. Nettuno, in verità, era noto agli antichi, scrivevo, e le scoperte che sarebbero state fatte avrebbero potuto soltanto confermare la conoscenza antica. Nettuno, predissi, sarebbe stato di colore verde-azzurro, ricco di acqua, e avrebbe presentato macchie di vegetazione paludosa. I segnali elettronici del Voyager 2 confermarono tutto e anche dell'altro. Rivelarono un bellissimo pianeta verde-azzurro come un'acqua marina, avvolto da un'atmosfera di elio, idrogeno e gas metano, spazzato da venti impetuosi e velocissimi che facevano apparire timidi gli uragani della Terra. Sotto questa atmosfera apparivano misteriose ed enormi macchie confuse, di colorazione talvolta blu più scuro e talvolta di un verde-giallastro, forse a seconda dell'angolo di incidenza dei raggi solari. Come previsto, l'atmosfera e la superficie avevano una temperatura inferiore allo zero, ma inaspettatamente si scoprì che Nettuno emette un calore proveniente dal cuore del pianeta. Contrariamente alle precedenti congetture che consideravano Nettuno un pianeta gassoso, il Voyager 2 determinò che il pianeta ha un nucleo roccioso al di sopra, del quale galleggia secondo le parole degli scienziati della GPL, una poltiglia di acqua e ghiaccio. Questo strato di acqua che gira attorno al nucleo di roccia mentre il pianeta evolve nel suo giorno di 16 ore agisce come una dinamo creando un campo magnetico di notevoli proporzioni. Questo bellissimo pianeta appare circondato da numerosi anelli composti di massi, pietre e polvere ed almeno 8 satellite o lune che gli orbitano attorno. Di questi il più grande Tritone si è dimostrato non meno spettacolare del suo signore planetario. Il Voyager 2 confermò il moto retrogrado di questo piccolo corpo celeste grande quasi come la luna dalla Terra il quale orbita attorno a Nettuno in direzione opposta al moto di questo e di tutti gli altri pianeti conosciuti nel nostro sistema solare cioè non in senso anti-orario bensì in senso orario. Dal di là del semplice dato della sua esistenza delle sue dimensioni approssimative del suo moto retrogrado gli astronomi non sapevano nulla su Tritone. Voyager 2 riportò che si tratta di una luna blu colore dovuto alla presenza di metano nell'atmosfera. La superficie di Tritone mostra attraverso le sottili atmosfera una superficie color rosa grigio con formazioni montuose irregolari da un lato ed istese piatte quasi senza alcun segno di crateri dall'altro lato. Fotografie ravvicinate suggeriscono una recente attività volcanica ma di tipo molto singolare. Quello che viene eruttato dalle profondità attive e ribollenti di questo corpo celeste non è la vafusa bensì ghiaccio semi sciolto a getti. Persino le congetture iniziali indicavano che il Tritone aveva fino ad un periodo relativamente recente in termini geologici dell'acqua sulla sua superficie e forse anche dei laghi. Gli astronomi non hanno saputo dare una spiegazione immediata delle linee parallele di Crinali che corrono dritte per centinaia di chilometri e uno o due punti si incontrano in angoli apertamente retti suggerendo anche aree rettangolari. Queste scoperte confermano in pieno le mie previsioni. Nettuna è veramente di colore verde-azzurro è composto in gran parte di acqua e ha effettivamente delle macchie di colore che ricordano una vegetazione di palude. Quest'ultimo aspetto misterioso può essere il più eloquente di un codice di colori se si prendono in considerazione tutte le implicazioni delle scoperte di su Tritone. Lassù queste macchie più scure con aluni più chiari hanno suggerito agli scienziati della NASA l'esistenza di profonde pozze di melma organica. Bob Davis riferiva da Pasadena al Wall Street Journal che Tritone la cui atmosfera contiene altrettanto nitrogeno di quello terrestre può eruttare attraverso i suoi vulcani attivi non soltanto gas e acqua ghiacciata ma anche materiale organico composti a base di carbonio che sembrano ricoprire parte di Tritone. Le mie previsioni erano quindi state confermate in modo estremamente gratificante addirittura travolgente ma non si era trattato semplicemente in un colpo di fortuna né tirare a indovinare. La spiegazione risale al 1976 alla pubblicazione del mio primo libro nella serie delle cronache terrestre intitolato Il dodgesimo pianeta. Basando le mie conclusioni sui testi sumeri antichi di migliaia di anni avevo chiesto retoricamente quando un giorno potremo esplorare Nettuno scopriremo forse che la sua frequente associazione al concetto di acqua è dovuta agli acquitrini che gli antichi avevano osservato sulla sua superficie. Tutto questo era stato pubblicato e quindi naturalmente scritto un anno prima che il Voyager 2 partisse e due mesi prima che incontrasse Nettuno avevo risposto alle stesse conclusioni in un articolo. Come avrei potuto essere così sicuro alla vigile dell'incontro del Voyager con Nettuno? Che le mie predizioni del 1976 sarebbero state confermate? Come osavo correre il rischio che le mie previsioni fossero smentite poche settimane dopo la presentazione dell'articolo? La mia certezza si basava su quello che era accaduto nel gennaio del 1986 quando il Voyager 2 era passato accanto al pianeta Urano. Anche se relativamente più vicino a noi e lontano soltanto poco più di 3 miliardi di chilometri Urano si trova così lontano al di là di Saturno da non poter essere visto dalla Terra occhio nudo. Fu scoperto nel 1781 da Friedrich Welty Melschel un musicista diventato astronomo dilettante soltanto dopo il perfezionamento del telescopio. Dal momento della sua scoperta fino ad oggi Urano era stato considerato il primo pianeta sconosciuto agli antichi e scoperto solo in tempi recenti. Si riteneva che i popoli antichi conoscessero e venerassero il Sole e la Luna e soltanto 5 pianeti come Mercurio Venere Marte Giove e Saturno che essi credevano muoversi attorno alla Terra nella volta dei cieli. Non l'altro conosciuto al di là di Saturno. Le testimonianze raccolte del Voyager 2 su Urano però dimostravano il contrario. In realtà un popolo vissuto nell'antichità conosceva Urano Nettuno e persino ancora di più lontano Plutone. I scienziati stanno ancora analizzando le fotografie e i dati su Urano e le sue sorprendenti lune cercando risposte a numerevoli quesiti. Perché mai Urano è codicato su un fianco come se fosse stato colpito da un altro grande corpo celeste in rotta di collisione? Perché i suoi venti soffiano in direzione retrograda contrariamente a quanto accade nel resto del sistema solare? Perché la sua temperatura sul lato nascosto al sole è uguale a quella del lato sposto al sole? E che cosa ha causato le insolite formazioni e lo strano aspetto di alcune delle lune di Urano? Particolarmente interessante è la luna chiamata Miranda uno degli oggetti più enigmatici del sistema solare secondo le parole degli astronomi della NASA su questo satellite si può vedere un altopiano delineato da scarpate lunghe quasi 200 chilometri che formano un angolo retto un fenomeno soprannominato il caprone degli astronomi dove su entrambi i lati dell'altopiano si notano formazioni ellittiche simili a solchi scavati da scalature concentriche due fenomeni che rappresentano le scoperte più importanti su Urano ne fanno un pianeta diverso da tutti gli altri primo il suo colore con l'aiuto dei telescopi installati sulla Terra e delle sonde spaziali automatizzate ci sono diventati familiari il marrone grigiasso di Mercurio la nebbia di colore sul furio che circonda Venere e il colore rossiccio di Marte e le molteplici sfumature di rosso marrone e giallo che caratterizzano Giove e Saturno ma mentre le sorprendenti immagini di Urano apparivano sugli schermi televisivi del gennaio del 1986 la sua caratteristica più stupefacente era il colore verde-azzurro un colore completamente differente da quello di qualsiasi altro pianeta conosciuto l'altra scoperta strana inaspettata riguardava la composizione di Urano contrariamente alle previsioni precedenti degli astronomi secondo i quali Urano era un pianeta completamente gassoso come i giganti Giove e Saturno il Voyager 2 dimostrò che il pianeta non era ricoperto da gas bensì da acqua e non solo uno strato di acqua ghiacciata sulla sua superficie ma un oceano di acqua un'atmosfera gassosa in effetti avvolge il pianeta ma sotto di essa si agita un immenso strato spesso quasi ai 10.000 chilometri di acqua estremamente calda con temperature che arrivano agli 8.000 gradi Fahrenheit secondo le parole degli analisti della JPL questo oceano di acqua bollente allo stato liquido circonda un nucleo di roccia fosa dove elementi radioattivi o altri processi sconosciuti producono l'immenso calore interno mentre le immagini di urano si ingrandivano sullo schermo televisivo man mano che il voyager 2 si avvicinava al pianeta il conduttore del programma fece notare il suo insolito colore verde azzurro non potei fare a meno di esclamare ad alta voce oh dio mio esattamente come l'avevano descritto i sumeri corsi nel mio studio a prendere una copia del libro il dodicesimo pianeta e con mani tremanti cercai la pagina 269 e ho riletto diverse volte le righe che citavano i testi antichi sì non c'era dubbio anche se non avevano telescopi i sumeri avevano descritto urano come masch sig un termine che avevo tradotto come verde brillante qualche giorno più tardi arrivarono i risultati delle analisi dei dati del voyager 2 e i riferimenti dei sumeri all'acqua su urano vennero anch'essi confermati sembrava infatti che ci fosse acqua dappertutto come riportava il programma riassunto dalla serie televisiva nuova pianeta rovesciato sul fianco il voyager 2 aveva scoperto che tutte le lune di urano sono composte da roccia e normale acqua ghiacciata questa abbondanza o anche la semplice presenza di acqua su pianeti ritenuti gassosi e sui loro satelliti ai confini del sistema solare erano a scoperta del tutto inaspettata eppure ecco qui la prova presentata nel dottesimo pianeta che nei loro testi vecchi di millenni gli antichi sumeri non solo avevano riconosciuto l'esistenza di urano ma avevano anche accuratamente descritto il suo colore verde-azzurro e le sue acque cosa significa tutto questo? significa che nel 1986 la scienza moderna non aveva scoperto qualcosa di ignoto aveva piuttosto riscoperto quello che la scienza antica già sapeva fu dunque la conferma data nel 1986 ai miei scritti del 1976 e quindi alla veracità dei testi sumeri che mi diede la sicurezza necessaria per predire alla vigile dell'incontro di Voyager 2 con Nettuno che cosa si sarebbe scoperto dai raccolti dal Voyager 2 su Urano e Nettuno avevano così ratificato non soltanto l'antica conoscenza sull'esistenza stessa dei due pianeti esterni ma anche gli importantissimi dettagli sulla loro conformazione l'avvicinamento di Nettuno nel 1989 porto ulteriori conferme ai testi antichi dove Nettuno era elencato prima di Urano come ci si aspetterebbe da qualcuno che entra nel sistema solare e che quindi vede primo Plutone poi Nettuno e quindi Urano in questi testi o liste planetarie Urano viene chiamato Kakab Shanam il pianeta doppio di Nettuno i dati del Voyager confermano ampiamente questa antica nozione Urano è effettivamente molto simile di aspetto a Nettuno per colore dimensione e contenuto di acqua entrambi i pianeti sono circondati da anelli e da una moltitudine di satelliti o lune che orbitano attorno allo loro è stata riscontrata anche un'inattesa somiglianza dei campi magnetici dei due pianeti entrambi hanno un'inclinazione insolitamente estrema relativamente all'asse di rotazione del pianeta 58 gradi per Urano e 50 gradi per Nettuno Nettuno sembra quasi il gemello magnetico di Urano riportava John Nobel nel New York Times i due pianeti sono simili anche per la lunghezza dei loro giorni che durano 16-17 ore i terribili venti di Nettuno e la poltiglia di acqua ghiacciata che copre la sua superficie dimostrano un enorme calore generato dal pianeta proprio come per Urano in effetti i resoconti della JPL affermano che i valori iniziali delle temperature indicano che le temperature di Nettuno sono simili a quelli di Urano che si trova a quasi 2 miliardi di chilometri più vicino al Sole perciò gli scienziati hanno pensato che in qualche modo Nettuno stia generando più calore interno di quanto faccia Urano compensando in qualche modo la maggior distanza dal Sole per raggiungere la stessa temperatura di Urano col risultato di temperature simili sui due pianeti il che va ad aggiungersi alle altre somiglianze di dimensioni che rendono Urano un gemello di Nettuno il pianeta doppio dicevano i sumeri di Urano paragonandolo a Nettuno le dimensioni e le altre caratteristiche che fanno di Urano un gemello di Nettuno annunciavano gli scienziati della NASA e non soltanto le caratteristiche descritte ma persino la terminologia il pianeta doppio il gemello di Nettuno sono le stesse un'affermazione però quella dei sumeri che è stata fatta circa 4.000 anni avanti Cristo mentre l'altra diffusa dalla NASA quasi 6.000 anni più tardi nel 1989 dopo Cristo nel caso di questi due lontani pianeti sembra che la scienza moderna sia riuscita finalmente solo a raggiungere la conoscenza degli antichi sembra incredibile ma i fatti parlano da soli inoltre si tratta soltanto del primo anello di una serie di scoperte scientifiche verificatesi in questi ultimi anni da quando è stato pubblicato il dodicesimo pianeta che confermano le sue teorie una dopo l'altra chi ha letto i miei libri sanno che si basano innanzitutto e soprattutto sulla conoscenza tramandateci dai sumeri la civiltà sumera è la prima civiltà dell'uomo di cui si abbia notizia apparsa all'improvviso e apparentemente dal nulla circa 6.000 anni fa tale civiltà vanta il credito di praticamente tutte le grandi scoperte di una società evoluta invenzioni e innovazioni concetti e credenze che formano la base della civiltà occidentale o meglio di tutte le altre civiltà e culture della terra la trazione animale dei veicoli le barche per i fiumi e le navi per i mari i mattoni e la calce gli edifici a più piani la scrittura le scuole gli iscrivi le leggi giudici e le giurie la monarchia i consigli dei cittadini la musica e la danza l'arte la medicina la chimica la tessitura la filatura la religione i sacerdoti i templi insomma tutto cominciò laggiù nel Sumer una regione situata a sud dell'Iraq moderno nell'antica Mesopotamia e soprattutto ricordiamo che le scienze della matematica e dell'astronomia ebbero origine proprio qui in verità tutti gli elementi di base dell'astronomia moderna hanno origini sumere il concetto di sfera celeste di orizzonte e di zenith la divisione del cerchio in 360 gradi la nozione di una fascia celeste in cui i pianeti orbitano attorno al sole di raggruppare le stelle in costellazioni dando loro i nomi e le immagini pittoriche che chiamiamo Zodiaco il fatto di applicare il numero 12 allo Zodiaco alle divisioni del tempo e l'invenzione di un calendario che è stato la base di tutti i calendari fino ad oggi tutto questo e altro ancora è cominciato nel paese dei Sumeri i Sumeri registravano le loro transazioni commerciali e legali i loro talenti e le loro storie su tavoletti di argilla e disegnavano le illustrazioni sui sigilli a forma di cilindro sui quali la figura era intagliata e negativo per poi imprimersi in positivo quando il cilindro veniva fatto rotolare sull'argilla umida tra i resti della ciltà sumere riportate alla luce dagli archeologi nell'ultimo secolo e mezzo sono state trovate centinaia se non migliaia di illustrazioni che trattavano di astronomia con iscrizioni di stelle e costellazioni correttamente posizionate nel cielo e manuali per osservare il sorgere e il tramontare delle stelle e dei pianeti tra le tavolette recuperate dagli archeologi ci sono testi che trattano in particolare del sistema solare mentre altri elencano i pianeti che orbitano attorno al sole nell'ordine corretto uno dei testi riporta persino le distanze tra i pianeti sui sigilli a cilindro sono state ritrovate illustrazioni che descrivono il sistema solare come quello della tavola B che ha almeno 4.500 anni e si trova oggi espossa alla sezione dedicata al Medio Oriente nel Museo di Stato di Berlino catalogato al numero VA243 se tracciamo uno schizzo dell'illustrazione che appare nell'angolo in alto a sinistra del basso rilevo sumero vediamo un sistema solare completo in cui il sole e non la terra è posto al centro e attorno ad esso orbitano tutti i pianeti da noi oggi conosciuti è molto evidente se disegniamo i pianeti conosciuti attorno al sole con le rispettive dimensioni corrette e nel giusto ordine la somiglianza tra l'illustrazione antica e quella moderna e sbalorditiva non lascia alcun dubbio sul fatto che i due gemelli Urano e Nettuno fossero note agli antichi l'illustrazione sumera rivela però anche alcune differenze non si tratta di errori dell'artista o di cattiva informazione anzi queste differenze in particolare due di esse sono molto significative la prima riguarda Plutone che ha un'orbita davvero curiosa troppo inclinata sul piano comune detto piano dell'eclittica rispetto al quale i pianeti orbitano attorno al sole è così ellittica che qualche volta Plutone come adesso fino a 1999 invece di trovarsi più lontano risulta più vicino al sole di Nettuno gli astronomi hanno dunque immaginato fin dalla sua scoperta nel 1930 che in origine Plutone fosse il satellite di un altro pianeta si resume generalmente che fosse una luna di Nettuno e in qualche modo nessuno riesce a immaginare come fu strappata dalla sua orbita attorno a Nettuno ed entrò in una propria orbita indipendente anche se piuttosto bizzarra attorno al sole le illustrazioni antiche lo confermano ma con una differenza significativa nella figura antica Plutone è posizionato tra Saturno e Urano invece che accanto a Nettuno e i testi cosmologici dei Sumeri dei quali tratteremo ampiamente riferiscono che Plutone un satellite di Saturno fu lasciato libero di raggiungere infine il suo destino specifico la sua orbita indipendente attorno al sole l'antica spiegazione sull'origine di Plutone rivela non soltanto una conoscenza effettiva delle questioni astronomiche ma anche una grande raffinatezza scientifica essa implica una comprensione profonda delle forze complesse che hanno modellato il sistema solare e inoltre lo sviluppo di teorie astrofisiche secondo cui le lune possono diventare i pianeti o i pianeti in formazione possono trasformarsi in semplici lune secondo la cosmogonia sumera Plutone ce l'ha fatta la nostra luna che stava per diventare un pianeta indipendente fu invece ostacolata da qualche evento celeste e non poter raggiungere tale posizione di indipendenza gli astronomi moderni sono passati dalle semplici teorie alla convinzione che questo sia effettivamente quanto è accaduto nel nostro sistema solare soltanto dopo aver osservato i dati raccolti dalle astronavi Pioneer e Voyager e hanno stabilito durante l'ultimo decennio che Titano la più grande luna di Saturno era un pianeta in formazione che non riuscì a distaccarsi completamente da Saturno le scoperte su Nettuno hanno rafforzato la teoria opposta riguardo a Tititone la luna di Nettuno che è poco più di 600 chilometri più grande come il diametro della luna della Terra e la sua particolare orbita i fenomeni vulcanici e altre caratteristiche inaspettate hanno suggerito agli scienziati del JPL secondo le parole del capo del gruppo di ricerca che Titone poteva essere un oggetto che viaggiava attraverso il sistema solare diversi miliardi di anni fa quando avvicinatosi un po' troppo a Nettuno fu attratto dal suo campo gravitazionale e cominciò ad orbitare attorno al pianeta quanto si allontana questa ipotesi dal concetto sumero secondo il quale le lune dei pianeti potevano diventare pianeti a loro volta cambiare posizione nel firmamento o non riuscire a conquistare una propria orbita indipendente in realtà continuando nell'esposizione della cosmogonia sumera diventerà sempre più chiaro che molte scoperte moderne non solo sono semplici di scoperti di ciò che la scienza antica già sapeva ma quest'ultima era anche in grado di spiegare molti fenomeni che la scienza moderna ancora non sa decifrare prima di iniziare prima di iniziare la discussione prima di presentare le prove e le testimonianze a sostegno di questa affermazione sorge inevitabile una domanda come potevano sapere tutte queste cose sumeri sulla terra così tanto tempo fa all'alba della civiltà umana la risposta si trova nella seconda differenza tra l'illustrazione sumera che rappresenta il sistema solare e le nostre conoscenze attuali si tratta dell'inclusione di un grosso pianeta nello spazio vuoto tra Marte e Giove a noi non insulta nulla di tale pianeta ma i testi sumeri di cosmogonia astronomia e storia affermano ripetutamente che esiste un altro pianeta nel nostro sistema solare il dodicesimo infatti contavano il sole e la luna che consideravano un corpo celeste a sé per le ragioni descritte nel testo e dieci pianeti invece di nove il titolo del mio primo libro è nato in riferimento al pianeta chiamato Nibiru dai testi sumeri il pianeta dell'attraversamento che non era né Marte né Giove come avevano affermato alcuni studiosi ma un altro pianeta ancora che passa in mezzo a loro ogni 3600 anni il dodicesimo pianeta il dodicesimo membro della famiglia del sole anche se tecnicamente come pianeta è solo il decimo fu da questo pianeta affermano ripetutamente insistentemente i testi sumeri che gli Anunnaki discesero sulla terra il termine significa letteralmente coloro che sono venuti dal cielo sulla terra nella Bibbia sono chiamati Knakim e nel capitolo 6 della Genesi sono detti anche Nephilim che in ebraico ha lo stesso significato quelli che sono discesi dal cielo alla terra e fu dagli Anunnaki spiegavano i Sumeri come se avessero anticipato le nostre domande avevano imparato ogni cosa la sofisticata conoscenza che troviamo nei testi sumeri è dunque una scienza propria degli Anunnaki che venivano da Nibiru e la loro doveva essere una civiltà molto evoluta perché come ho osservato nei testi sumeri gli Anunnaki erano discesi sulla terra circa 450.000 anni fa quindi a quei tempi erano già in grado di viaggiare nello spazio la loro lunga orbita ellittica formava un cappio e questa è l'esatta traduzione del termine sumero attorno a tutti i pianeti esterni fungendo da osservatorio mobile da cui gli Anunnaki potevano osservare tutti gli altri pianeti non c'è da meravigliare se quello che noi scopriamo oggi era già risaputo ai tempi dei sumeri perché qualcuno dovrebbe prendersi la briga di venire su questo grumo di materie che chiamiamo terra non per incidente non per caso e non una sola volta ma ripetutamente ogni 3600 anni è una domanda a cui i testi sumeri hanno dato una risposta solo sul loro pianeta Nibiru gli Anunnaki i Nephilim si trovano ad affrontare una situazione che a noi sulla terra potremmo ben presto trovarci di fronte il deterioramento ecologico stava rendendo la vita sempre più impossibile avevano bisogno di proteggere la loro atmosfera esaurita e l'unica soluzione sembrava quella di sospendere delle particelle d'oro al di sopra dello strato atmosferico come uno scudo le finestre delle astronavi americane per esempio sono placate con un sottile strato d'oro per schermare le radiazioni dannose per gli astronauti questo metallo raro era stato scoperto dagli Anunnaki su quello che avevano chiamato il sestimo pianeta contandolo all'esterno verso l'interno e avevano lanciato la missione terra per raggiungerlo e raccoglierlo da prima avevano cercato di farlo senza troppi sforzi dalle acque del golfo persico ma quando il tentativo fallì si impegnarono in faticose operazioni scavando dalle miniere dell'Africa nel sud orientale circa 300.000 anni fa gli Anunnaki assegnati alle miniere africane si ammutinarono fu allora che lo scienziato capo e ufficiale medico degli Anunnaki usarono la manipolazione genetica ma le tecniche di fertilizzazione in vitro per creare dei lavoratori primitivi il primo Homo sapiens da utilizzare nelle estenuante opere di estrazione dell'oro i testi su Medi che descrivono tutti questi eventi e la loro visione condensata nel libro della Genesi sono stati trattati ampiamente nel dodicesimo pianeta gli aspetti scientifici di questi sviluppi e delle tecniche impiegate dagli Anunnaki verranno esaminati nel presente libro la scienza moderna sta correndo un sentiero stupefacente di conquiste scientifiche ma come vedremo la strada per il futuro è piena di cartelli segnaletici conoscenze scoperte del passato vedremo che gli Anunnaki hanno già percorso questa strada e quando la relazione tra loro e gli esseri che avevano creato Muto e di conseguenza essi decisero di dare al civiltà all'uomo ci trasmissero un po' delle loro conoscenze e la capacità di progredire da soli nel sapere scientifico tra i progressi scientifici che saranno discussi ai capitoli seguenti parleremo anche delle crescenti prove dell'esistenza di Nibiru se non fosse per il dodicesimo pianeta la scoperta di Nibiru sarebbe un grande evento dell'astronomia non più importante però per la nostra vita quotidiana di quanto sia stata ad esempio la scoperta di Plutone nel 1930 è stata una bella cosa sapere che il sistema solare aveva un pianeta in più lassù e sarebbe ugualmente gratificante scoprire che i pianeti non sono nove bensì dieci soprattutto farebbe piacere agli astrologi che hanno bisogno di dodici corpi celesti non di undici soltanto per le dodici case dello zodiaco ma dopo la pubblicazione del dodicesimo pianeta con le prove in esso contenuto che non sono state rifutate da nessuno dopo la sua prima edizione del 1976 e le dimostrazioni seguite ai progressi scientifici da allora realizzati la scoperta di Nibiru non può rimanere semplicemente confinata ai libri di testo dell'astronomia se ciò che ho scritto è vero se in altre parole i sumeri avevano ragione nell'affermare ciò che affermavano la scoperta di Nibiru significherebbe non soltanto che c'è un altro pianeta lassù ma che c'è anche la vita confermerebbe inoltre che è là fuori ci sono esseri intelligenti persone così progredite che quasi mezzo milione di anni fa potevano viaggiare nello spazio gente che andava e veniva dal proprio pianeta e la terra ogni 3600 anni è l'identità non soltanto l'esistenza di chi abita su Nibiru che è destinata a scuotere l'ordine esistente qui sulla terra in campo politico religioso sociale economico e militare e quali saranno le ripercursioni di quando e non di se Nibiru verrà scoperto che ci crediate o no si tratta di una domanda che è già stata ponderata esistono prove del fatto che nell'Africa meridionale nel paleolitico ci fossero delle miniere i studi archeologici dimostrano che era così la maggior compagnia mineraria della Sudafrica la Anglo American Corporation valutando la possibilità concreta che la collocazione delle antiche miniere abbandonate segnalasse delle concentrazioni d'oro nel 1970 ha recluto un gruppo di archeologi perché andassero a riscoprire le antiche miniere la pubblicazione dei risultati delle ricerche riporta in dettaglio la scoperta dello Switzerland e in altre località del Sudafrica di estese aree minerarie con gallerie di una profondità di quasi 20 metri i resti di carbone e gli oggetti in pietra stabiliscono per questi insediamenti una datazione intorno al 35.000 46.000 e 60.000 avanti Cristo gli archeologi e gli antropologi che hanno lavorato a datare i reperti sono convinti che la tecnologia mineraria venne impiegata nell'Africa meridionale per gran parte nel periodo successivo ai 100.000 avanti Cristo nel settembre del 1988 una squadra di fisici internazionali arrivò in Sudafrica per verificare l'adattazione degli insediamenti umani nello Switzerland e nello Zululand le tecniche più moderne di datazione indicarono un'età fra i 80.000 e i 115.000 anni riguardo alle miniere d'oro più antiche di Monotapa nello Zimbabwe del Sud le leggende Zulu affermano che erano utilizzate da schiavi di carne e sangue prodotti artificialmente creati dalla prima gente questi schiavi raccontano le leggende Zulu scesero in battaglia con l'uomo scimmia quando la grande guerra a sellare apparve nel cielo precita il Namba Figli Mei dell'uomo di medicina Zulu credo Usamazu Mutua è stato il progetto Voyager a focalizzare la nostra attenzione sull'importanza delle collisioni ha riconosciuto Edward Stone nell'istituto californiano di tecnologia lo scienziato capo del programma Voyager i scontri cosmici furono i protenti scultori del sistema solare ebbene i sumeri avevano chiarito 6.000 anni prima lo stesso identico fatto il centro della loro cosmogonia della loro visione del mondo e della loro religione era un evento catastrofico che chiamavano la battaglia celeste si tratta di un avvenimento a cui si fa ricorrentemente riferimento in una varietà di testi sumeri di inni e di proverbi proprio come accade nei testi della Bibbia i salmi i proverbi il libro di Giobbe e diversi altri i sumeri però descrivevano l'avvenimento in dettaglio passo per passo in un lungo testo che chiedeva sette tavolette dall'originale sumero sono stati trovati solo frammenti e citazioni il testo più completo è arrivato a noi in lingua accadica la lingua degli assiri e dei babilonesi che succedettero ai sumeri in Mesopotamia il testo tratta della formazione del sistema solare prima della battaglia celeste e inoltre della natura delle cause dei risultati della collisione così con una semplice premessa cosmogonica spiega i misteri che ancora sfidano la comprensione dei nostri astronomi astrofisici ma ancora più importante ogni volta che gli scienziati moderni sono arrivati alle delle risposte soddisfacenti le scoperte coincidono con la versione sumera e la confermano fino alle scoperte del Voyager il punto di vista scientifico imperante considerava il sistema solare quale lo vediamo oggi come il modo in cui si era disposto poco dopo alla sua origine secondo le leggi immutabili del moto celeste e della forza di gravità certo c'erano state delle stranezze meteoriti che arrivavano da chissà dove vanno a sbattere contro i membri stabili del sistema solare butterandoli di crateri e comete che schizzano tutti intorno in orbite lunghissime sbucando da chissà dove e sparendo apparentemente nel nulla ma questi casi di detriti cosmici si presumeva risalessero all'origine stessa del sistema solare circa 4.000 e mezzo di anni fa frammenti di materia planetaria che non erano riusciti a farsi incorporare nei pianeti o nelle loro lune e anelli un po' più difficile da spiegare la fascia degli asteroidi un anello di rocce che forma una catena in orbita tra Marte e Giove secondo la legge di Bode una regola empirica che spiega perché i pianeti si sono formati e dove si sono formati tra Marte e Giove avrebbe dovuto esserci un pianeta grosso almeno il doppio della Terra i frammenti in orbita nella fascia degli asteroidi sono forse i resti di quel pianeta? la possibile risposta affermativa è impedita da due problemi l'insieme della materia che costituisce la fascia degli asteroidi non arriva a formare la massa di una simile pianeta e non esiste alcuna spiegazione plausibile di che cosa possa aver causato la frantumazione di quell'ipotetico pianeta inoltre se si è trattato di una collisione celeste quando e con che cosa e perché? i scienziati non avevano risposte l'idea che dovevano essere state uno o più importanti collisioni a trasformare la configurazione iniziale del sistema solare divenne certezza dopo l'esplorazione di Urano nel 1986 come ammise il dottor Stone il fatto che Urano fosse inclinato da una parte si sapeva già dall'osservazione attraverso il telescopio e altri strumenti ancora prima della spedizione di Voyager ma si era posizionato così fin dall'inizio o era stata una forza esterna una violenta collisione o l'incontro con un altro grande corpo celeste a causare l'inclinazione la risposta doveva venire dall'esplorazione ravvicinata delle lune di Urano ad opera del Voyager 2 il fatto che queste lune ruotano attorno all'equatore di Urano nella sua posizione inclinata formando tutte le insieme una specie di occhio di bue rivolto verso il sole portò gli scienziati a chiedersi se le lune fossero già presenti al momento dell'inclinazione o se si fossero piuttosto formate dopo quell'evento forse a partire dalla materia espulsa a forza della collesione che aveva inclinato Urano se le lune fossero nate insieme ad Urano la materia grezza celeste dalla quale si erano formate avrebbe condensato la materia più pesante nella zona immediatamente vicina al pianeta avrebbero dovuto quindi esserci più rocce pesanti e sottili croste di ghiaccio sulle lune interne e una combinazione più leggera di materiali più acqua ghiacciata e meno rocce sulle lune esterne per lo stesso principio della distribuzione dei materiali nel sistema solare una maggiore proporzione di materia pesante vicino al sole e più materia leggera allo stato gassoso lontano da esso le lune del più distante Urano avrebbero dovuto essere proporzionalmente più leggeri di Saturno che il più vicino i reperti però rivelarono una realtà contraria a tali aspettative nelle relazioni reassuntive complete della missione su Urano pubblicata sull'autorevole rivista Science nel 4 luglio del 1986 un'equipe di 40 scienziati concludeva che la densità delle lune di Urano tranne che per il satellite Miranda è significativamente più pesante di quella dei satelliti ghiacciati di Saturno ma allo stesso modo i dati del Voyager 2 mostravano contradicendo ancora una volta quello che avrebbero dovuto essere che le due maggiori lune interne di Urano Ariel e Aubriel hanno una composizione più leggera spessi strati di ghiaccio e piccoli nuclei di roccia rispetto alle lune esterne Titania e Oberon che risultarono composte soprattutto di pesante materiale roccioso con solo uno sottile strato di ghiaccio questi dati del Voyager 2 non erano le uniche testimonianze a suggerire che le lune di Urano non si fossero formate allo stesso tempo del pianeta bensì più tardi in circostanze insolite un altro fatto che mandò in crisi gli scienziati fu scoprire che gli anelli di Urano sono di colore nero scuro più nero della polvere di carbone presumibilmente composti di materiale ricco di carbone una specie di catrame primordiale spazzato dallo spazio esterno questi anelli scuri curvi inclinati e bizzarramente ellittici erano alquanto di simili dai bracciali simmetrici di particelle ghiacciate che circondano Saturno nero scuro erano anche sei delle nuove piccole lune scoperte attorno ad Urano delle quali alcune fungevano da pastori degli anelli la conclusione ovvia era che gli anelli e le piccole lune si erano formati dai frammenti di una violenta catastrofe nel passato di Urano lo scienziato responsabile del progetto presso il JPL espresse il concetto in termini più semplici c'è la possibilità che un intruso non appartenente al sistema di Urano vi sia penetrato e abbia colpito quella che era un tempo una luna più grossa abbastanza violentemente da frantumarla la teoria di una catastrofica collisione celeste quale evento che potesse spiegare tutti gli strani fenomeni riguardo ad Urano le sue lune e i suoi anelli fu ulteriormente rafforzata dalla scoperta che i frammenti neri più grossi che formavano gli anelli di Urano ruotano attorno al pianeta ogni otto ore una velocità doppia rispetto a quella della rivoluzione stessa del pianeta attorno al proprio asse ecco allora la domanda in che modo è stata impressa una tale velocità ai frammenti degli anelli considerati tutti i dati precedenti la probabilità di una collisione celeste risulta l'unica risposta possibile dobbiamo prendere in considerazione la reale probabilità che le condizioni di formazione dei satelliti siano state determinate anche dagli eventi legati alla forte inclinazione di Urano così hanno detto i 40 scienziati del progetto e in parole più semplici significa che con ogni probabilità le lune in questione nacquero come risultato della collisione che fece inclinare Urano su un lato nelle conferenze stampa gli scienziati della NASA sono stati ancora più audaci hanno detto una collisione con qualcosa della dimensione della Terra che viaggiava a circa 60.000 km all'ora avrebbe potuto provocare un risultato del genere immaginando che si tratti di un evento accaduto 4 miliardi di anni fa l'astronomo Gary Hunt dell'Imperial College di Londra ha riassunto tutto in poche parole Urano ha preso una bella sberla da giovane né le espressioni concise né le lunghe relazioni scritte però hanno osato suggerire che cosa fosse questo qualcosa da dove venisse e come mai finì per collidere o andare a sbattere contro Urano per le risposte dobbiamo rifarci ai Sumeri prima di passare dalla conoscenza acquisita negli anni 70 e 80 a ciò che si sapeva 6.000 anni fa dobbiamo esaminare un altro aspetto del mistero le stranezze di Nettuno sono forse il risultato di collisioni o scontri senza alcuna relazione con quelli di Urano oppure sono le conseguenze di una singola catastrofe che colpì tutti i pianeti esterni prima dell'avvicinamento del Voyager 2 a Nettuno si sapeva che il pianeta aveva soltanto due satellite Nereide e Tritone Nereide risultò avere una strana orbita insolitamente inclinata rispetto al piano equatoriale del pianeta di ben 28 gradi e molto eccentrica poiché invece di girare attorno al pianeta con un movimento quasi circolare segue un percorso molto allungato che porta la luna fino a quasi 10 milioni di chilometri da Nettuno per poi riavvicinarla ad un milione e 600 mila chilometri da esso benché secondo le regole della formazione dei pianeti per le sue dimensioni avrebbe dovuto essere sferica Nereide ha una forma molto curiosa simile ad una ciambella ritorta inoltre brillante da una parte e nero scuro dall'altra tutte queste particolarità hanno portato Martian Schilfer e Brady Schiller a concludere in un importante saggio sull'argomento pubblicato sulla rivista Nature del 2 giugno 1987 che Nereide ebbe una collisione con una luna attorno a Nettuno o un altro pianeta e che lei e Tritone furono sbalzati dalla loro curiosa orbita da qualche grosso pianeta o corpo celeste immaginate commenta Brad Schaeffer che una volta Nettuno avesse un normale sistema di satelliti come quello di Giove e di Saturno e poi si è arrivato un grosso oggetto che penetrando dal sistema abbia sconvolto tutto il materiale scuro che si osserva su un lato di Nereide si poteva spiegare in due modi possibili ma entrambi presuppongono che sia avvenuta una collisione o un impatto su un lato del satellite ha spazzato via uno strato esterno più scuro che lo ricopriva mettendo a nudo del materiale sottostante più brillante oppure la materia oscura apparteneva al corpo estraneo ed è andata ad impastarsi su un lato di Nereide la seconda possibilità è più plausibile come suggerisce la scoperta annunciata dall'equipe del JPL il 29 agosto 1987 che tutti i nuovi satelliti se in più trovati dal Voyager 2 su Nettuno sono molto scuri e hanno tutti una forma irregolare anche la luna designata 1989 N1 che normalmente per le sue dimensioni avrebbe dovuto essere sferica ma anche le teorie riguardo a Tritone e la sua orbita allungata e retrograda in senso orario attorno a Nettuno sono plausibili solo se si presuppone una collisione in questo scenario l'originale piccola luna di Nettuno sarebbe stata divorata da Tritone ma la forza della loro collisione avrebbe causato il dissiparsi dell'energia orbitale di Tritone in una misura tale da rallentare la corsa del proiettile e permettere che fosse catturato dalla gravità di Nettuno ma un'altra teoria per cui Tritone sarebbe stato un satellite originale di Nettuno risultò fallace in base a questo studio e incapace di reggere un'analisi critica i dati raccolti dal Voyager 2 durante l'effettiva esplorazione di Tritone appoggiarono questa teoria erano inoltre compatibili con altri studi che avevano dimostrato perché il calore interno di Tritone e le caratteristiche della sua superficie si potessero spiegare soltanto con una collisione in cui Tritone fosse stato catturato nell'orbita di Nettuno da dove venivano i corpi celesti che provocarono la catastrofe la domanda è rimasta senza risposta senza risposta è anche la questione del cataclisma di Urano e di quello di Nettuno e sono diversi aspetti di un unico evento oppure sono incidenti senza alcun legame tra di loro non è ironico ma anzi gratificante scoprire che le risposte a tutti questi misteri erano già fornite dagli antichi testi dei sumeri e che tutti i dati scoperti dai voli dei voyager sostengono e confermano le conoscenze degli antichi sumeri la scienza dei sumeri parla di un solo grande evento all'origine di tutto i loro testi spiegano più di quanto i moderni astronomi siano riusciti anche solo a concepire riguardo ai pianeti esterni gli antichi testi illustrano inoltre questioni a noi più vicine come ad esempio l'origine della terra e della luna della fascia degli asteroidi e delle comete poi raccontano una storia che combina il credo dei creazionisti con la teoria dell'evoluzione una storia che fornisce una spiegazione molto più soddisfacente di qualsiasi concezione moderna su ciò che è accaduto sulla terra e su come siano apparsi l'uomo e la sua civiltà tutto cominciò riportano i testi sumeri quando il sistema solare era ancora giovane il sole nei testi sumeri Apsu che significa quello che esiste fin dall'inizio il suo piccolo compagno Mumu quello che è nato il nostro Mercurio e più lontano Tiamat la fanciulla della vita erano i primi membri della famiglia del sistema solare gradualmente il sistema si espanse con la nascita delle tre coppie di pianeti quelli che chiamiamo Venere e Marte tra Mumu e Tiamat la coppia di giganti Giove e Saturno per usare i loro nomi moderni al di là di Tiamat e Urano e Nettuno ancora più lontani all'interno di questo sistema solare originale ancora instabile a poco a poco dalla sua formazione apparve un invasore i sumeri lo chiamavano Nibiru e i babilonesi lo ribattezzarono Marduk in onore del loro dio nazionale apparve dallo spazio esterno dal profondo per usare le parole dei testi antichi mentre si avvicinava ai pianeti esterni del nostro sistema solare però cominciò ad essere attratto come si poteva prevedere il primo pianeta esterno ad attrarre Nibiru con il suo campo gravitazionale fu Nettuno detto Ea quello che abita nell'acqua in Sumero chi lo generò fu Ea spiegano gli antichi testi Nibiru era in sé uno spettacolo affascinante scintillante nobile dominatore sono alcuni degli aggettivi usati per descriverlo lanciava scintille lampi su Urano e Nettuno mentre passava loro accanto può essere arrivato con i suoi satelliti già in orbita attorno a lui oppure può averne acquisiti alcuni come risultato dell'attrazione gravitazionale dei pianeti esterni i testi antichi parlano delle sue membra perfette difficili da percepire quattro erano i suoi occhi quattro le sue orecchie mentre passava accanto a Ea Nettuno Nibiru cominciò a manifestare un'escrescenza laterale come se avesse una seconda testa fu proprio questa sporgenza a strappare via e diventare Tritone la luna di Nettuno un elemento indiscutibilmente a favore di questa versione è il fatto che Nibiru entrò nel sistema solare in un'orbita retrograda in senso orario contrario al senso di maroia degli altri pianeti soltanto questo dettaglio fornito dai sumeri per cui il pianeta invasore si muoveva al contrario nel senso orbitale di tutti gli altri pianeti può spiegare il moto retrogrado di Tritone le orbite estremamente ellittiche degli altri satelliti e delle comete e altre importanti realtà che dobbiamo ancora affrontare altri satelliti furono creati mentre Nibiru passava accanto ad Anu Urano descrivendo il passaggio di Urano il testo afferma che Anu generò i quattro venti un riferimento chiarissimo alle quattro principali lune di Urano che si formarono come sappiamo oggi soltanto durante la collisione che fece inclinare Urano allo stesso tempo apprendiamo da un passaggio successivo del testo antico che Nibiru stesso acquisì tre satelliti come risultato di quell'incontro sebbene i testi sumeri descrivano in che modo dopo essere stato finalmente catturato nell'orbita solare Nibiru visitò nuovamente i pianeti esterni modellandoli infine nel sistema così come lo conosciamo oggi il primo incontro già da solo spiega diversi misteri sui quali si arrovelano gli astronomi moderni a proposito di Nettuno-Urano le loro lune e i loro anelli dopo aver oltrepassato Nettuno-Urano Nibiru fu trascinato sempre più verso il centro del sistema planetario entrando nell'immenso campo gravitazionale di Saturno Asshar il dominatore dei cieli e di Giove Kishar il dominatore delle terre ferme Mentre Nibiru avanzava erggendosi come per il combattimento vicino ad Asshar Saturno i due pianeti si baciarono sulle labbra fu allora che il destino cioè il sentire orbitale di Nibiru cambiò per sempre e fu allora che anche il principale satellit di Saturno Gaga che doveva diventare Plutone fu trascinato via verso Marte e Venere una direzione possibile soltanto grazie alla forza retrograda di Nibiru formando una vasta orbita ellittica Gaga tornò infine ai margini del sistema solare e là si rivolse a Nettuno e Urano mentre passava accanto alla loro orbita fu l'inizio del processo per cui Gaga divenne il nostro Plutone con la sua curiosa orbita inclinata che a volte lo porta a metà strada tra Nettuno e Urano il nuovo destino il nuovo sentire orbitale di Nibiru era ormai inevitabilmente diretto verso il vecchio pianeta Tiamat in quel periodo abbastanza gli inizi della formazione del sistema solare sossistevano notevoli condizioni di instabilità specialmente come ci insegnano i testi nell'area di Tiamat mentre i pianeti vicini continuavano a muoversi nel loro orbite Tiamat era attratta in diverse direzioni dai due giganti dietro di lei e dai due pianeti più piccoli tra lei e il sole ne risultò la dispersione o la raccolta intorno a lei di una schiera di satelliti furiosi di rabbia nel linguaggio poetico del testo battezzato dagli studiosi epica della creazione questi satelliti mostri ruggenti vestiti di terrore e incoronati da un'aureola ruotavano furiosamente orbitando come se fossero degli dei celesti la più grande insidia alla stabilità e alla sicurezza degli altri pianeti era il capo delle schiere di Tiamat un grosso satellite che era arrivato quasi a dimensioni planetarie e che stava per raggiungere il proprio destino indipendente la propria orbita attorno al sole Tiamat gli gettò un incantesimo perché potesse scendere dagli dei del cielo e lo glorificò fu chiamato in lingua sumera kingu il grande emissario qui il testo stende un velo sul dramma planetario lo raccontato passo per passo nel dottesimo pianeta e come accade nelle tragedie greche la battaglia celeste successiva era inevitabile e mentre le forze magnetiche gravitazionali entravano inesorabilmente in gioco portando alla collisione tra Nibiru che avanzava con i suoi sette satelliti e Tiamat con la sua schiera di undici satelliti guidati da Kingo sebbene fossero in rotta di collisione Tiamat orbitava in senso antiorario e Nibiru in senso orario perciò i due pianeti non si urtarono un fatto di estrema importanza astronomica furono i satelliti o i venti significato letterale sumero di quello che fiancheggiavano di Nibiru che si sfacellarono contro Tiamat ed entrarono in collisione con i suoi satelliti ecco le parole dei testi sumeri i quattro venti schierò perché nulla di lei potesse sfuggire il vento del sud il vento del nord il vento dell'est il vento dell'ovest accanto al proprio fianco stese la rete il dono dell'antenato Anu che aveva creato il vento malvagio il vortice e l'uragano e gli fece avanzare i venti che aveva creato tutti e sette per affliggere Tiamat dall'interno si alzarono dietro di lui questi venti o satelliti di Nibiru tutti e sette erano le principali armi con le quali Tiamat fu attaccata nella prima fase della battaglia celeste ma il pianeta invasore aveva anche altre armi continua il testo davanti a lui pose il fulmine con una fiamma ardente riempì il proprio corpo poi stese una rete che avvolge Tiamat un terribile splendore avvolgeva il suo capo come un turbante di fuoco e un grande terrore lo avviluppava come un mantello mentre i due pianeti con le loro schiere di satelliti si avvicinavano abbastanza da permettere a Nibiru di percepire lo schema di Kingu Nibiru attaccò Tiamat con la sua rete il campo magnetico forse per avvolgerla e lanciando sui vecchi pianeti in mani scariche elettriche di fulmini divini e Tiamat fu riempita di splendore ralentando riscaldandosi e distendendosi ampie fessure si aprirono nella sua crosta probabilmente liberando vapore e materia vulcanica in una crepa che si apriva Nibiru lanciò uno dei suoi principali satelliti quello chiamato il vento malvagio che squarciò il ventre di Tiamat strappò il suo interiore e le spezzò il cuore oltre a spezzare Tiamat e a spegnere la sua vita il primo scontro sigilò il fato delle piccole lune che orbitavano attorno tutte tranne il grosso Kingu presi nella rete la trazione magnetica e gravitazionale di Nibiru frantumati e spezzati i membri della banda di Tiamat furono gettati lontano dalla loro strada precedente e costretti in nuovi sentieri orbitali nella direzione opposta tremanti di paura volsero le spalle e in questo modo nacquero le comete così apprendiamo da un testo vecchio di 6.000 anni le comete ottennero la loro orbita estremamente ellittica e retrograda per quanto riguarda Kingu il principale satellite di Tiamat il testo ci informa che nella prima fase della collisione celeste Kingu fu semplicemente privato della sua orbita quasi indipendente Nibiru lo allontanò dal suo destino Nibiru rese Kingu una Dugae una massa di argilla senza vita prima di atmosfera di acqua e materielle radioattive molto ridotta nelle dimensioni e legò con catene a rimanere nell'orbita attorno alla sconfitta Tiamat dopo aver vinto Tiamat Nibiru partì per un nuovo destino il testo Sumero non lascia dubbi sul fatto che il nuovo invasore orbitava attorno al sole attraversò i cieli ed esplorò le loro regioni misurando la dimora di Apsu il signore misurò le dimensioni di Apsu avendo compiuto un giro intorno al sole Apsu appunto Nibiru proseguì la sua corsa nello spazio lontano ora però preso per sempre nell'orbita solare era costretto a tornare e al suo ritorno Ea Nettuno era pronto a raccogliere Ashar Saturno salutò la sua vittoria poi il suo nuovo sentiero orbitale lo riportò sulla scena della battaglia celeste e tornò verso Tiamat che aveva legato il signore si fermò a contemplare il suo corpo senza vita poi decise di dividere il mostro con arte e con una stoffa la strappò in due parti con questo atto la creazione del cielo raggiunge il suo stadio finale e comincia la creazione della terra e della sua luna da prima i nuovi impatti spezzarono Tiamat in due parti la parte superiore il suo cranio fu colpito dal satellite di Nibirum chiamato il vento nel nord il cui corpo trasportò il pianeta e con esso Kingo in luoghi sconosciuti in un'orbita nuova di zecca dove prima non c'era mai stato nessun pianeta erano così state create la terra e la nostra luna l'altra metà di Tiamat fu ridotta in frantumi dal secondo impatto questa metà inferiore la sua coda fu martellata insieme per diventare un bracciale cesellato nei cieli incatenando i pezzi insieme come un custode restò accanto a loro piegò la coda di Tiamat per formare la grande fascia come un bracciale così fu creata la grande fascia la fascia degli asteroidi dopo aver sistemato Tiamat e Kingo Nibiru tornò ad attraversare i cieli controllando le loro regioni e questa volta la sua attenzione si concentrò sulla dimora di Ea Nettuno dando a questo pianeta e il suo gemello Urano il loro aspetto definitivo e fu sempre Nibiru secondo il testo antico a dare a Gaga Plutone il suo destino finale assegnandogli un posto nascosto una regione dei cieli sconosciuta fino ad allora era ancora più lontano della posizione di Nettuno nel profondo ci viene detto nello spazio lontano in accordo alla sua nuova posizione di pianeta estremo Plutone ottene un nuovo nome Usmi quello che mostra la via il primo pianeta che si incontra entrando nel sistema solare dall'esterno e le altre parole dallo spazio esterno verso il sole così Plutone fu creato e messo nell'orbita che occupa tuttora dopo aver costruito le stazioni per i pianeti Nibiru preparò due dimore per se stesso una era nel firmamento come era chiamata nei testi antichi la fascia degli asteroidi l'altra molto più lontano nel profondo e fu definita la grande distante dimora cioè Escharra dimora del governante principe gli astronomi moderni chiamano queste due posizioni planetarie il perigeo il punto orbitale vicino al sole e l'apogeo il punto più lontano si tratta di un'orbita che richiede 3600 anni terrestri per essere completata così l'invasore venuto dallo spazio esterno divenne il docesimo pianeta membro del sistema solare un sistema composto dal sole al centro con il suo antico compagno Mercurio le tre vecchie coppie di gemelli Venere e Marte Giove Saturno Urano e Nettuno la Terra e la Luna i resti del grande Tiamat anche se in una nuova posizione Plutone con la sua nuova indipendenza e il pianeta che aveva sistemato tutti nella loro posizione finale e Nibiru l'astronomia moderna e le sue recenti scoperte avvalorano e confermano questo racconto antico di millenni per maio ne gases재 nil 這種 racconto antico